Saranno docenti, studenti e rappresentanti degli uffici internazionali di Atenei provenienti da 15 paesi partner i protagonisti dell'International Staff Week, l'evento organizzato per la seconda edizione dal settore internazionalizzazione ed Erasmus dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara, che da oggi andrà avanti fino al 27 settembre. L'obiettivo è la promozione della mobilità di studenti e personale accademico verso paesi terzi non associati al programma Erasmus e nello specifico Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Etiopia, Georgia, Guinea, Kosovo, Libia, Moldavia, Senegal, Siria e Tunisia. A parlarne al TG8 il professor Lorenzo Pignatti, coordinatore scientifico del progetto. Questo progetto dalla comunità europea Erasmus Plus KA171 è un progetto relativamente nuovo ma molto importante perché permette a diverse università di creare dei partenariati anche se non esistono ancora degli accordi formali e permette di fare la mobilità per studenti, docenti e personale amministrativo. Quindi permette fondamentalmente di conoscersi per poi poter mandare gli studenti nelle varie diverse università e ancora meglio per poi creare nuove partnership, nuovi accordi per poi proseguire con altre domande alla comunità europea e quindi a ampliare la possibilità di creare queste relazioni. Quindi è fondamentalmente un progetto che aiuta a fare altri progetti, a mettere insieme università che hanno gli stessi interessi e poter appunto poi promuovere altri progetti a livello europeo. In questo momento qui noi abbiamo oggi università che vengono dall'area balcanica, dall'Africa mediterranea, che vengono dall'Est Europa e anche dall'Africa centrale. Per il Rettore, Liborio Stupia, si tratta di un'occasione importante per rafforzare i rapporti internazionali della D'Annunzio in un panorama globale di alta formazione. L'università deve essere uno spazio aperto e deve fare rete. Questa rete non può limitarsi al territorio regionale o nazionale ma deve essere internazionale perché si cresce solo confrontandosi con altre società, con altre culture, con altre organizzazioni sanitarie. Io sono felicissimo del lavoro che il mio gruppo sta facendo nel tessere queste reti internazionali. Quello di oggi è uno dei tanti esempi. Continuiamo a portare sempre più persone da fuori nazione alla D'Annunzio e questo per me è un grande motivo di orgoglio.